Pronti? Partenza? Via! La prolattina è un ormone prodotto da delle cellule specializzate poste nell'ipofisi anteriore ed ha effetto sulla ghiandola mammaria, stimolandone crescita e funzionalità. Il suo rilascio è controllato prevalentemente da altri due ormoni, il progesterone e la dopamina. Il primo dà un feedback negativo, ovvero il rilascio viene stimolato solo quando i livelli di progesterone sono bassi. Questo fa sì che la lattazione possa avvenire solo durante la fase postparto, in quanto i livelli di tale ormone sono ridotti. Per quanto riguarda la dopamina, invece, quando il neonato comincia la suczione del capezzolo, lo stimolo meccanico inibisce la produzione di dopamina nei nuclei ipotalamici, stimolando quindi la produzione di prolattina e la lattazione. Inoltre, altri livelli di prolattina inibiscono la produzione di GNRH, ovvero l'ormone di rilascio delle gonadotropine, bloccando così il ciclo varico e focalizzando le energie sulla produzione del latte. Sebbene il periodo normale dell'allattamento si agiri intorno ai 6 mesi, se la suczione viene continuata, la continua inibizione dei nuclei ipotalamici può consentire la produzione di prolattina in maniera indefinita, anche per diversi anni.